Buongiorno amiche, buon sabato! Si riparte nel fine settimana sempre come! Si inizia la giornata con Skincare and Makeup e questa graziosissima, coccolosissima fascetta Skincare con due orecchie molto molto carine, è un orsetto ed è bellissimo. Il pensiero carino di oggi è che tutto torna sia amiche nel senso del karma, delle cose belle e delle cose brutte. Tutto torna sempre. Se noi ci comportiamo male, cosa otteniamo? Quello che seminiamo, che le persone ci fanno tornare indietro, sia le persone ma un po' in generale un po' tutto, ci torna indietro un po' di cattiveria. Quindi meglio non essere cattivi, non fare agli altri quello che non vogliamo che venga fatto a noi stessi. E quindi, di conseguenza, se ci comportiamo bene, siamo gentili e anche carini verso il prossimo, ci tornerà tanta gentilezza e tanta bontà. O almeno si spera, ecco, noi diciamo che facciamo la nostra parte e poi vediamo quello che non è detto, perché a volte anche essere troppo buoni non sempre appunto si riceve poi benevolenza o anzi azioni gentili. Quindi a volte ci torna indietro magari qualche bruttazione, pur essendo sempre corretti e gentili e quindi diciamo che non è che è garantito al cento per cento. Però se cominciamo sicuramente a pensare che, soprattutto in modo positivo, un po' di gentilezza verso chi ci circonda, probabilmente ci torneranno delle azioni abbastanza positive, diciamo così. Ecco, io mi preoccupo, amiche, sempre di fare la mia parte guardando un po', diciamo non guardando troppo quello che poi mi potrebbe tornare indietro. Se no, il più delle volte sì, è vero, un pochino si rimane delusi. Per questo motivo è meglio farlo in modo proprio disinteressato, senza mai aspettarsi nulla. In cambio, questo è il segreto per essere sempre felici e soprattutto sereni. E quando capiterà, perché sicuramente amiche capita, che vi diranno, ah ma tu, vedi, ti sei comportato bene e poi cosa ti è tornato indietro? E voi direte come dico io, ma io non mi aspettavo niente indietro e quindi sono felicissima così. Maggini, pini, brufolini e le occhiaie da pandina. Noi amiche le contrastiamo come facciamo per, diciamo, la negatività, le cose negative e antipattiche, le contrastiamo con la gentilezza. E i genipini, i brufolini li contrastiamo sempre con gentilezza, ma con il correttore e il fondotinta. I correttori che utilizziamo oggi sono due di Essence Camouflage Waterproof, amica, non so neanche dirlo. Avete ragione, se l'avete pensato, il mio inglese fa schifo. La colorazione di questi due correttori è 23 Warm Sand per quello chiaro e 50 Warm Toast per quello più scuro. E avete visto che coccola, oggi utilizziamo il bellissimo fondotinta di Charlotte Ibuli in colorazione 4 Warm Sheld. Io non li so dire questi nomi amiche in inglese, perdonatemi. Il fondotinta costa tipo un reno e mezzo, però è molto bello. Io ero riuscita ad accaparrarmelo in una mystery box e non so neanche per quale miracolo ce l'ho fatta a ordinare il colore giusto, totalmente a caso. La cipria anche era nella mystery box, quindi l'ho pagata a meno del suo prezzo ed è per fortuna trasparente. Quindi non ho dovuto scegliere la colorazione e si chiama High Brush Brightening Flawless Finish. È meravigliosa, però costa tanto. Il nome del fondotinta invece è Charlotte's Beautiful Skin Foundation. Invece per pitturarci la faccia come blush utilizziamo la palette mitica, perché mi pare che fosse sempre anche questa dentro al box carino che c'era super mega offerta. Anche di quello si chiama Pillow Talk Beauty Fine Face Palette. A prezzo pieno è un po' costosino, però è molto carino, devo dire che è bello. Oggi come lip balm utilizziamo il labello alla pesca, molto profumato, mi piace tantissimo questo labello e lo trovo super mega idratante. Come sempre amiche un tocco di volume boost di bella oggi non può mancare, mi piace tantissimo, non riesco più a farne a meno. È veramente una coccola che utilizzo tutti i giorni, ma strega comanda color scelto da voi. Sì amiche, oggi utilizziamo la palette Beauty First Palette di Charlotte Tilbury su richiesta della nostra amica Stefani. Oggi amiche mie cerchiamo di creare, o almeno spero, un makeup leggero e abbastanza portabile, naturale, come appunto richiesto da Stefani. Spero di riuscirci perché sapete che col makeup ho la manina un po' pesante, quindi mi viene sempre un po' diciamo in maniera abbastanza automatica creare dei look un pochino extra. Ma oggi cercherò di mantenermi sul leggerino, o almeno spero, fatemi sapere se è sempre molto extra o se finalmente ce l'ho fatta a crearne uno un po' leggero. Abbiamo applicato il nostro preferito e amatissimo primer occhi di Revolution in colorazione light, lo scotch di carta che ci aiuta a creare un look occhi abbastanza delineato, simmetrico e pulito. Nella parte interna dell'occhio stiamo applicando il marroncino leggero che si chiama Virtual Taupe Future Matte, molto carino e soprattutto molto leggero. E invece nella parte esterna stiamo applicando e sfumando il marrone medio che si chiama Supernova Suede Future Matte. Abbastanza complicati i nomi anche degli ombretti di questa palette, per me non è semplice con questi nomi. Molto molto carino questo ombrettino chiaro che si chiama Cyber Silver Crystal Glow che applichiamo nell'angolo interno dell'occhio. Invece nella palpebra, nella parte centrale stiamo applicando Beautyverse Party Topper, molto luminoso, molto carino e anche abbastanza chiaro. Questo è un beggiolino champagne molto luminoso. Nella parte esterna, per andare a dare intensità allo sguardo, almeno un pochino amiche concedette, me lo stiamo applicando il marrone medio che si chiama appunto Supernova Suede Future Matte che avevamo applicato anche nella parte superiore molto molto sfumato. Guardate l'effetto secondo me, dai, abbastanza leggero, non è molto impegnativo, se no amiche mi sento di non avere nulla proprio sugli occhi. Questo lo trovo leggero, naturale, abbastanza portabile. Io sono comunque curiosa di sapere cosa ne penserà la nostra amica Stefani del make-up di oggi. Io spero che le piacerà. Ovviamente, almeno per altri due giorni, creeremo altri look un pochino leggeri, un pochino naturali, con gli ombretti contenuti all'interno delle palette di Charlotte Tilbury. Spero che otterremo dei risultati, innanzitutto completamente diversi tra loro, ma anche abbastanza naturali e portabili. Fatemi sapere tutte quante, amiche e amici, cosa ne pensate del look di oggi. Spero che vi piacerà, spero che lo appreziate e soprattutto fatemi sapere se proverete a replicarlo. Anche tu Stefani, mi raccomando, ricordati di farci sapere nei commenti se proverai a replicarlo e se ti piacerà. Nella rima inferiore dell'occhio applichiamo il dorato, giusto un po' di luminosità, che si chiama Golden Galaxy ed è il Crystal Glow, molto carino. E ora il mascara. Oggi, dai, amiche, applichiamo il mascara di Charlotte Tilbury, che sapete che ho paura che finisce, quindi lo utilizzo poco, ma comunque la regista mi ha detto, la che ti si secca, meglio che lo usi, quindi lo usiamo. È il Pillow Talk Push Up Lashes, bellissimo, iconico, ma costoso. Per questo, quando le cose, amiche, costano, io ho il terrore che finiscano nelle labbra. Tamponiamo per togliere il lip balm e applichiamo una matita e un rossetto di Charlotte Tilbury. La matita è la Lip Cheat in colorazione Hot Gossip, è molto naturale, secondo me, non è chiara. È proprio un bel colore, super portabile anche da me, che in realtà, sapete che io non porto delle colorazioni, diciamo, troppo scure, oppure, insomma, che non mi fanno sentire nella mia comfort zone. Ho bisogno di qualcosa che mi fa sentire a mio agio. Il rossetto che abbiamo indossato è il Pillow Talk, molto bello, super carino e naturale, secondo me. Bello, molto portabile, mi piace. Io posso dirvi che sono molto, molto soddisfatta del look di oggi, mi sento un po' una bambolina sognante. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. La parola segreta di oggi potrebbe essere bambolina, se vi piace, spero di sì, e una bambolina come i moji. Io vi mando un bacio grande, grande, grande. Ci vediamo nel video del pomeriggio e ci sentiamo nei commenti. Ciao amiche, buon sabato, fatele brave, a dopo. Ah, dimenticavo, corro a fare le pulizie. Ciao amiche.